Buongiorno Manuel! Vieni quando è in carattina, mentre invece quando è in carattina te? Manu! Ecco come siamo! Stiamo male con questo gasolio, Manu! Come si piglia tu! Ma ho il benzinaio! Io comincio la partita! Manuel dell'Inter, Pasquale da Juventus! Ecco come siamo! Stasera c'è lo derby, voglio! Come si ti piglia tu! Ecco come siamo! Voglio le portare un cornetto a Manuel! Manuel! Ho il cornetto! Ecco come siamo! Cornetto di cioccolato per Manuel! Ecco come siamo! Ti piace la cioccolata? Pasqua! Vedete se ti piace la cornetto? Pasqua! Carmele! E Manuel mangia tutto! Ecco come siamo! Manuel! Carmele! Ti piace la cornetto? Guardate Manuel! Ecco come siamo! Come si piglia! Tu sei vestito ai vigili del fuoco stamattina! Visto che ora cominciano gli incendi in giro! E Manuel è diventato pure vigile del fuoco! Un abbraccio a tutti! Mi raccomando! Ecco come siamo! Guardate Manuel! Manuel! E' il tuo figlio! E' il tuo figlio! E' il tuo figlio! E' il tuo figlio! Ecco come si piglia! Come hoяти come il vino con rinchiore! Studi! E' il tuo figlio! E' il tuo figlio! Guardate Manuel a riflettere! E' il tuo figlio! E' il mio figlio! E' il tuo figlio! E' il mio figlio! Voglio sapere dove te scrivi i ricorsi nuovi Manuel, come ti sei vestito stamattina? Sei pronto per questa guerra? Ecco mi chiamo, puro fuggiti Mi raccomando a me vincere questa guerra Manuel, ecco Ecco mi chiamo Se vai tu sicura vincere questa guerra Manuel, dite te Tu mi pillate Grazie